Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continui a guardare lui. Chi sei? Il muzoone? No, non c'è il pesceone. No, guardi lui che è lì. Dov'è il mangiato? Hai già per terra? È già per terra il mangiato? Roberto, è già per terra il mangiato? No, non c'è nessuno. È già qua quello che deve essere mangiato o lo devono portare? Ah, non lo so io. Chi è il mangiato? 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 Grazie a tutti